E' domenica 23 dalle 9 alle 13 open day via Cesare Uva alla Niche, grande palestra, grande sala, tutte le attività musicali con palla derogati, seccati a fiore, ragazzi non potete mancare per favore, non potete, non c'è il pulcino bio non c'è, giuro che non c'è stare il pulcino bio, il pulcino bio non c'è, ma c'è tanto, tanto divertimento, tanto sano divertimento, tanto sport, una giornata incredibile. Open day il 23, domenica 23 dalle 9 alle 13 e tutto si concluderà con un aperitivo offerto. Ragazzi facciamo un applauso per questo magnifico evento, vi aspetto domenica 23 alla Niche.